Allora ragazzi buongiorno a tutti, ho visto le formazioni Atalanta-Inter a mezz'ora della partita formazione un po' ridimensionata da Spalletti, giochiamo con una punta con solo i cardi davanti sinceramente avrei preferito anche vedere Lautaro Martinez perché questa è una partita fondamentale che comunque il Napoli a fortuna è riuscito a prendere i tre punti e quindi ce l'ha scavaccato, come detto, i tre punti stanno avanti quindi servirebbe una partita molto di attacco, certo con la punta insomma sembra quasi che dobbiamo andare lì per fare il minimo risultato possibile quando io credo che invece l'unica aspettativa buona di questa giornata sarebbe una vittoria che ci porti di nuovo al secondo posto vedremo ragazzi, certo con la punta non sarà facile, i cardi un po' troppo isolato di davanti vedremo come va a finire, io sono positivo e mi auguro e spero anche oggi me lo sento che la partita la portiamo a casa nonostante una formazione abbastanza difensiva ciao a tutti e Forza d'Inter